Ciao ragazzi aggiornamento del negozio oggetti un like cozzo e andiamo subito a vedere cosa è uscita è andata via qualcosa di star wars è rimasto solo l'andro raga le macchine leila ah no è uscito c'è c'è ancora boba fett c'è ancora ray ok c'è ancora tutto raga per un attimo ho pensato che fosse andato via qualcosa in alto fosse arrivato cos'altro di nuovo invece niente ancora padme non arriva secondo me uscirà raga mille tracce gem raga altre 90 i calciatori sono rimasti ancora oggi sirena rimasta la skin l'altra skin insomma è rimasta è tornato ivy diva della vetta anzi guardiamole subito se skin 1400 vbac tutto il bundle ce la danno ce lo danno con la skin che ha due stili occhiali senza occhiali a me piace un sacco senza occhiali raga è stilosissima e poi la lo snowboard con le pistole dietro alla schiena come becca che due piccozzi invece così così soltanto la skin 1200 piccone 500 poi abbiamo assassina atletica mille stili cappello senza cappello senza occhiali senza mascherina mille combinazioni possibili lei pistola allacciata lo zainetto invece come backpack i pompon che forse era un po' di tempo che non uscivano insieme alla skin così così non sono malissimo però neanche neanche il top di gamma diciamo la vendra che è rimasta ancora un giorno poi abbiamo operazione divertimento due stili con i capelli diciamo stilosi e invece pettinati il globo discoteca oro dietro alla schiena e poi andiamo avanti abbiamo diva della disco 1200 vbac lei ha solo uno stile la palla argento strobo sfera dietro alla schiena per lei ravina 1200 vbac anche lei questa si è un sacco che non si vedeva due stili il primo predefinito il secondo mi pare che sia reattivo bagliore ok con il bagliore praticamente uguale le alette di cristallo dietro alla schiena stessa cosa col bagliore e senza bagliore poi abbiamo terror club i picconi così così anche questi assapora la vittoria 500 vbac carino come balletto che abbiamo sfaccettata 1200 vbac anche questa non si vedeva dagli anni d'oro del grande real lo zainetto inutile dietro alla schiena ancora swag shuffle come nuovo emote carne trita 1500 vbac poi abbiamo la sfonda pancia 1500 vbac due stili con il bagliore senza bagliore e poi abbiamo trita e frulla 500 vbac cozzi due maceti griviatore 800 vbac questo è carino col filo spinato sopra simile a batticarne ma con il filo spinato look da istantanea 500 vbac carino anche questo balletto qui poi abbiamo rampante rinnegata che non usciva da un po' eccola qua a me così così questa raga non mi piace molto troppo robotica secondo me lo zainetto zaino dell'incursore anche questo così così e poi abbiamo stella del synth che è uscita l'altro ieri il bundle guardiano glutinoso non so perché l'hanno creato questo bundle 1800 vbac lo guardiamo da qua raga 1400 la skin che ha due stili quello chiaro con lo scuro e schiacciano schiacciamoci invece il piccotto così così anche questo 800 vbac griffin che sono rimasti burger lego scala livelli accedete i motori billy alice raga domani nella previsione vi faccio vedere quella nuova che arriverà dopo domani nello shop rossa e nera carina anche quella lì ci fermiamo qui domani niente live alle due uscirà la previsione dello shop faccio vedere tutte le ultime skin che stanno per arrivare in game codice creatore vander trattino auto creepy se lo usate raga mi raccomando taggatemi per supportarmi soprattutto per provare a vincere durante i premi durante i contest premi come skin gift card post battaglia eccetera eccetera laicozzo ancora una volta ciao